Poracci il gioco era Cruising Blast, titolo che vi consiglio assolutamente di recuperare su Switch se siete amanti dei racing arcade Io è stato il più veloce mentre la risposta più bella l'ha data Kamja, i server di Mario Kart il 18 marzo Effettivamente anch'io prevedo il panico totale, scene da far impallidire anche il traffico del lunedì mattina sul raccordo Va bene andiamo avanti, di che gioco si tratta? Solo risposte sbagliate, sorprendetemi Poracci bentornati o benvenuti su TG Poro, l'unico format di YouTube Italia dove si parla di videogiochi quasi tutti i giorni Quella di oggi sarà una puntata ricchissima Analizzeremo i motivi per cui il lancio di Chocobo GP è stato un mezzo fallimento Faremo il riassuntone del digital event dedicato a Monster Hunter Rise Sunbreak E andremo a vedere dei dati di vendita che ribaltano la situazione Veramente impressionanti, ma forse neanche troppo Prima di iniziare però come al solito vi invito a smettere di girovagare senza una direzione nell'interregno E a mettervi in marcia verso la conquista non violenta di internet.com e la fondazione del Poroverso Lasciate un like, iscrivetevi al canale attivando la campanella delle portifiche E seguitemi anche sugli altri social, in particolare Instagram Domani e dopodomani sarò a Londra per seguire un evento particolare Quindi su Instagram troverete tutti gli aggiornamenti sulle mie scorribbande non violente europee Ci vediamo anche lì, trovate tutti i link in descrizione Bene, ho detto tutto, iniziamo! Partiamo con qualche notizia al volo Nintendo ce l'aveva promesse E in occasione del trentesimo anniversario della serie di Kirby Iniziano a spuntare le prime operazioni celebrative No, non ci troviamo di fronte all'annuncio di un nuovo titolo Magari una remaster o una collection Quanto piuttosto alla conferma che si terrà un concerto celebrativo Dedicato all'aspirapolvere per eccellenza L'evento si svolgerà a Tokyo il prossimo 11 agosto Ma sarà possibile guardarlo in diretta in streaming sul canale ufficiale di Kirby Un'orchestra composta da ben 35 musicisti Eseguirà un medley dei brani più famosi della saga Mentre su un gigantesco ledwall saranno proiettate immagini dei videogiochi Un bel modo per dare il via alle danze Speriamo arrivino anche altre iniziative Intanto vi segnalo che sul canale ufficiale di Nintendo È stato caricato un estratto dal concerto tenutosi nel 2017 Per celebrare i 25 anni della serie La cosa buffa? Beh, che verrà rimosso a marzo 2023 Nintendo è proprio fissata con le scadenze, eh? Intanto sono stati annunciati nuovi titoli Che entreranno a far parte del Game Pass nella seconda metà di marzo E abbiamo un'ottima varietà Sono molto incuriosito dal Day One di Shredders Che segnerà il ritorno dei giochi di snowboard dopo decenni di assenza E terrei gli occhi puntati anche su Weird West Un'interessante action RPG messo in piedi da ex dipendenti di Arkane Poi gli appassionati di racing avranno F1 2021 Per gli amanti degli strategici c'è Crusader Kings 3 E in generale anche per questa seconda metà del mese C'è veramente l'imbarazzo della scelta Sempre di Xbox e di imbarazzo parliamo Ma non con un'accezione positiva Se andiamo a leggere le ultime novità riguardanti il reboot di Perfect Dark The Initiative, lo studio creato appositamente da Microsoft Per dare vita a titoli quadrupla A Ma fa della finita Annunciato di lavorare al progetto Ai The Game Awards 2020 Da lì in poi però c'è stato il silenzio assoluto Almeno in via ufficiale L'entrata in gioco di Crystal Dynamics nel 2021 Nessuno faceva presupporre qualche intoppo nello sviluppo Ipotesi che è stata corroborata dal fatto che Analizzando il profilo LinkedIn dell'azienda È saltato fuori che nell'ultimo anno Più di 30 persone Molte delle quali ricoprivano un ruolo chiave all'interno dell'azienda Hanno abbandonato The Initiative Che vedrebbe il suo organico ridotto a meno di 50 persone Ex dipendenti parlano di un clima lavorativo tutt'altro che disteso E c'è chi ipotizza che nel 2021 il progetto sia ripartito proprio da capo Speriamo di ricevere al più presto notizie rassicuranti Sullo stato di questo importante progetto E lunga vita al Nintendo E passiamo alle notizie del giorno Ma purtroppo dobbiamo iniziare non in modo proprio positivo Nonostante la critica abbia per lo più promosso Chocobo GP I giocatori si sono resi immediatamente conto Che c'è qualcosa che non funziona all'interno del titolo Square Enix E quello che sembrava avere le carte in regola Per diventare un potenziale rivale di Mario Kart 8 Deluxe Si è rivelato essere una mezza occasione sprecata Tanto da costringere Square a correre ripari Capisci che c'è qualcosa che non funziona nel momento stesso in cui avviando un gioco Vieni bombardato da messaggi riguardanti diversi tipi di valute in game Continui riferimenti a Season Pass, microtransazioni, acquisti in game Non fanno che conferire dal primo istante un aspetto da free to play a Chocobo GP Prendete ad esempio come funziona il primo Season Pass Con 800 Mithril, una valuta acquistabile con soldi reali, si ha accesso alla versione base del Pass Che sblocca solo la possibilità di accedere a ricompense tramite livellamenti in game Mentre pagando la versione Premium, che costa il triplo, si raggiunge automaticamente il livello 60 Sbloccando tutto il contenuto del Pass stagionale, tra cui anche Cloud Quello che ha fatto veramente scandalizzare i giocatori è che ci si è immediatamente resi conto che il bonus di benvenuto 800 Mithril dopo il primo login ha una data di scadenza Dopo 5 mesi, se non utilizzato, questo premio scade, svanendone nulla Fortunatamente questa regola non si applica al Mithril acquistato, ma solo a quello ricevuto in dono Ma è praticamente impossibile godersi il gioco in una tale giungla di microtransazioni e grinding La reazione da parte degli utenti è stata così negativa che Square ha immediatamente risposto Annunciando un ribilanciamento della progressione dei livelli all'interno del Pass E anche 500 Mithril in regalo a tutti i giocatori Ma ancora più emblematico è stato il messaggio del producer del titolo indirizzato ai giocatori giapponesi Dove sostanzialmente viene annunciata una totale riscrittura di tutto il sistema di progressione dei premi stagionali in arrivo nei prossimi mesi Si tratta di un ribilanciamento necessario per garantire la sopravvivenza di un titolo votato al multiplayer online Ma come gli è venuto in mente a Square di lanciare un titolo in questo stato? L'ottimo potenziale, che vi invito a scoprire tramite la versione Lite di Chocobo GP Si perde in questi disastri di marketing E con il DLC di Mario Kart dietro l'angolo le possibilità di successo del titolo erano già appese a un filo Con una partenza del genere, praticamente in retromarcia, vedo molto buio il futuro di Chocobo GP Voi poracci che ne pensate di questo kart racing game? Ma passiamo alla riassuntone del digital event che si è tenuto oggi, poco dopo pranzo Capcom ha finalmente svelato importanti dettagli relativi a Sunbreak La prima corposa espansione di Monster Hunter Rise Finalmente abbiamo una data per Sunbreak, la cui uscita è prevista per il 30 giugno Nei 20 minuti di presentazione Capcom è sicuramente riuscita a vendere in modo convincente Sunbreak ai veterani della serie A chi ha adorato Rise e anche a chi magari si è stancato del titolo e sperava in una scusa per tornare a caccia di mostri giganti L'espansione si preannuncia massiva, tanto che verrà accompagnata da un aggiornamento per Rise di ben 13 GB Non poco se prendiamo in considerazione di stare sulla Switch Il filmato ci ha introdotto alla storia di Sunbreak, alla nuova mappa di gioco, alle tre minacce principali del nuovo continente E anche a qualche inedita meccanica di movimento, senza però spolerare troppo Proprio come accadde per Rise, la campagna marketing accompagnerà i giocatori in modo costante e graduale fino all'uscita del DLC Oltre agli ormai immancabili amiibo di rito e un pack unico che comprenderà Rise più l'espansione Ho apprezzato particolarmente l'idea di introdurre nuove feature che permetteranno ai giocatori di velocizzare il processo di grinding su Rise Per arrivare più rapidamente al contenuto quasi post-game offerto da Sunbreak Da non amante della serie, che ha saltato a pieppari Rise Questa presentazione mi ha incuriosito parecchio e Sunbreak mi sembra un ottimo prodotto Invece a voi poracci, che impressioni ha dato? Siete in hype per Sunbreak? E chiudiamo parlando dei dati di vendita relativi all'hardware in Europa per il mese di febbraio Perché c'è stato un vero e proprio ribaltone, ma, seppur come scenario sia molto peculiare Una situazione del genere ha le sue motivazioni, che a dirla tutta sono anche facilmente intuibili Come riportato da GameIndustry.biz, Switch rimane saldamente in testa alle classifiche Confermandosi come la console più venduta in tutta Europa Va notato però che il Regno Unito e la Germania sono escluse da questo conteggio La cosa interessante è che per la prima volta dal lancio avvenuto a fine 2020 Le console di Microsoft hanno venduto più dei due modelli di PS5 Facendo scivolare l'ammiraglia di Sony in terza posizione Ovviamente c'è il trucco Il problema è che entrambe le piattaforme hanno ancora ingenti problemi di produzione e distribuzione Ed è praticamente impossibile stare appresso alla domanda dei consumatori Questo significa che chi riesce a produrre più console ne vende di più A febbraio, mentre PS5 e serie X sono spesso risultate introvabili Serie S è rimasto l'unico hardware facilmente reperibile Fattore che lo ha portato ad essere acquistato anche da chi magari avrebbe preferito una piattaforma diversa È facile immaginare che a parità di stock, soprattutto in Europa PlayStation venderebbe molto di più di serie X e S Anche se ormai lo sappiamo L'obiettivo di Microsoft non è tanto quello di vendere le console Quanto piuttosto di farvi abbonare al Game Pass Ma è comunque un traguardo storico per Microsoft e Xbox Staremo a vedere, quando la situazione si stabilizzerà, come reagirà il mercato In questo poraccio era tutto per oggi Vi ringrazio per essere arrivati fino in fondo E vi aspetto qua sotto nei commenti per continuare a discutere delle notizie del giorno Mercoledì e giovedì avrò qualche problema a pubblicare Cercherò comunque di non lasciare il canale completamente scoperto Ma siccome seguirò un evento particolarissimo a Londra Il mio invito è quello di venire a seguirmi su Instagram Dove pubblicherò degli aggiornamenti in tempo reale su quello che andrò a combinare Non mi resta comunque che darvi appuntamento al prossimo video Quando uscirà, uscirà Voi mi raccomando, fate i bravi Riposatevi Ma soprattutto Nerdate duro Io sono il Poro Ciocobo Michele GP Ciao Ehi 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 fermo Se questo tipo di video ti piace Prendi in considerazione l'idea di supportarmi sul Poreon Il Patreon dei Poracci Con un piccolo contributo mensile Mi può aiutare enormemente a portare avanti i contenuti qua sul canale E in cambio ricevi anche delle ricompense di tutto rispetto Come retroscena, anteprime E anche live esclusive Dove andremo a caccia di retro game Ti lascio il link in descrizione E ricordati che Poracci si diventa Grazie a tutti